Si aggiravano tra i portoni degli stabili di Piazza della Borsa con fare sospetto, tanto che gli agenti della squadra volante della Questura le hanno notate e hanno deciso di fermarle e identificarle. Due giovani, di cui una minorenne di nazionalità croata, sono state denunciate in stato di libertà ieri pomeriggio. Addosso alle due ragazze, in particolare nascosti nei reggiseni, i poliziotti hanno notato tre cacciaviti e una chiave inglese nascosta in un calzino, oggetti che si sono fatti consegnare. Le due giovani sono state quindi accompagnate in Questura e qui la polizia ha appurato che una delle due era minorenne, contrariamente a quanto la stessa aveva dichiarato, mentre l'altra, ventenne, era già nota alle forze dell'ordine. Oltre alla denuncia per falsi attestazioni e per il possesso ingiustificato di oggetti, atti a offendere, nei suoi confronti è stato anche emesso da parte del Questore un foglio di via obbligatorio che le impedisce di ritornare nel comune di Trieste per tre anni. La minorenne è stata affidata a una struttura competente. La minorenne è stata affidata a una struttura competente.